serata di grande calcio ancora protagonista sui canali EA Sports per non perdersi nemmeno un istante un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava in cabina di commento per raccontarvi le emozioni di questo match si annuncia la partita di grande livello c'è grande qualità qui, è in campo da una parte e dall'altra e questo dovrebbe essere garanzia di spettacolo e speriamo anche di gol e fare protagonisti certamente più attesi di questa sfida non potrebbe essere altrimenti è un giocatore in grado di seminare il panico nella difesa avversaria con la sua abilità palla al piede difficile da fermare quando è in giornata il calendario non conosce SOS si gioca ormai tanto anche l'estate amichevoli di lusso con un occhio all'aspetto sportivo e l'altro molto attento al portafogli con giocatori spesso costretti ad affrettare la preparazione si giocava anche ai miei tempi ma sicuramente molto meno di adesso l'estate le squadre ora passano più tempo in viaggio da una torne all'altra che sul campo ad allenarsi d'altronde espandere il proprio brand in nuovi mercati è fondamentale per ottenere un ritorno economico sempre maggiore e garantirsi una rosa competitiva è fondamentale per ottenere un ritorno economico sempre maggiore tutto pronto si parte è fondamentale grande intervento del difensore occhio al contrasto possesso palla per gli avversari occhio qui il difensore è un muro su questo tiro il pallone è uscito sarà rimessa non può sbagliare dice di no tuffo prodigioso occhio al tocco in mezzo interviene e sventa il pericolo di testa concede il falo laterale puntuale qui il difensore nel recupero sbaglia qui il passaggio pallone in falo laterale baragna metri perdono palla banalmente cercare in bucata per il compagno 1 a 0 arriva il primo gol dell'incontro da apprezzare meglio con questo replay paziente giro palla che ha portato il gol ripartenza micidiale l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato ha sfruttato la perfezione la chance che gli è capitata bravo ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 palla recuperata dagli avversari prova ad attaccare sulla corsia c'è spazio per andare continuano a far girare il pallone a far girare il pallone Usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Recupera la palla, intercettando bene il pallone. Azione che si fa interessante. Buona circolazione palla. Può colpire da lì, può far male da lì. Comoda uscita del portiere. Bel passaggio. A spazio. Lo vede? Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Intervento efficace. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Vanno a girare palla in attesa del momento giusto. Ci sono metri a disposizione. Ottima visione di gioco. Abbiamo appena parlato della buona circolazione di palla, però qui hanno sbagliato. Occhio a questo lancio. Occasione! L'arbitro dice che il pallone è uscito. Ci sarà rimessa. L'arbitro manda tutti negli sfogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Tutto pronto. Si parte. Non può sbagliare. Non può sbagliare. Cerca l'impugata per il compagno. 1-0. Arriva il primo gol dell'incontro. Comincia ora il secondo tempo. Comincia ora il secondo tempo. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Buono l'appoggio. Fanno girare bene palla. Riconquista il pallone con un buon intervento. La protegge bene col corpo. Occhio al traversone. Perdono palla banalmente. Si aprono spazi invitanti. Palla giocata sugli esterni. Pallone che ha superato la linea. Sarà rimesso dal fondo. Ecco il momento della sostituzione. Buono. La sónà rimessa da. Punta l'area Buona triangolazione Attenzione pericolo Ritarda l'azione con questo intervento È stato bravo a bloccare questa azione Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone Premia la corsa sulla fascia Spezzano senza difficoltà il Tichitac avversario Prova di forza per il possesso palla Squadra ospite che sta per effettuare un cambio Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari Azione che si fa interessante Lo vede? Capisce tutto il difensore Ottimo intervento Pallone profondo pericoloso Lettura perfetta e palla recuperata Opportunità Un altro pallone in mezzo Chiude bene il triangolo Ottima visione di gioco È in buona posizione Grande intervento del difensore in area Continua il Tichitac alla ricerca del momento giusto Sono di nuovo in parità grazie a questa rete Non mollano Non ci stanno a perdere Continuano a lottare Su ogni pallone E queste le immagini del gol Arrivato al termine di un possesso palla Prolungato Ha finalizzato la perfezione Un grande contropiede Attaccante che si è involato verso la porta E non ha fallito Hanno pareggiato Dunque Uno a uno C'è cambio in vista per la squadra di casa Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto Di come sono schierati in campo i suoi uomini Pier Sa pesca avere il tempo Attaccano alla ricerca del gol partita Azione insistita Buona circolazione di palla Avanza palla al piede Cerca la sovrapposizione Fanno girare molto bene il pallone Ottimo il possesso Non un grande passaggio in effetti Pressione qui sul portatore di palla Pallone perso Provano a costruire un'altra chance In questo finale per vincere la gara Occhio a questo lancio Buona l'intuizione Può ricevere una posizione interessante Occhio al pallone per il possibile vantaggio Contrasto decisivo questo Pareggio allo scadere del tempo Dei 90 minuti Tutto pronto Si parte Non può sbagliare Cerca l'impugata per il compagno 1-0 Arriva il primo gol dell'incontro Continua il tiki-taka Alla ricerca del momento giusto Sarò di nuovo in parità Grazie a questa rete Non mollano Non ci stanno a perdere Continuano a lottare Su ogni pallone C'è stanchezza È ovvio Ma è fondamentale Adesso mettere in campo Tutte le energie Cominciano i supplementari Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Ha riconquistato palla Palla persa Provano con il pressing A recuperare il pallone Muovono il pallone senza fretta Aspettando il momento giusto Posizione ideale Palla interessante in profondità E il pallone finisce in rete Si è coordinato E ha calciato in porta di prima Un gol bellissimo Replay del gol Che ci permette di apprezzare meglio Il lancio a scavalcare La difesa Ha poi calciato forte Dalla media distanza Il potere non ha avuto il tempo Di intervenire Ponteggio cambiato Ora siamo sul risultato Di 2 a 1 Ponteggio cambiato Ponteggio cambiato Pallone profondo Pallone profondo per il compagno Occhio al cross Controllano molto bene Il possesso del pallone L'appoggia di nuovo al compagno Palla recuperata dagli avversari Ci sarà un minuto da recuperare Come indica il quarto uomo Ci sono metri a disposizione Occasione L'arbitro dice che può bastare E' finito il primo tempo supplementare Tutto pronto Si parte Non può sbagliare Non può sbagliare Non può sbagliare Cerca l'imbucata da avere il compagno 1 a 0 Arriva il primo gol dell'incontro Continua il tiki-taka Alla ricerca del momento giusto Sarà di nuovo in parità Grazie a questa rete Non mollano Non ci stanno a perdere Continuano a lottare Su ogni pallone Posizione ideale Palla interessante In profondità C'è il fischio Ci sarà adesso il secondo tempo supplementare Sfruttano tutto il capo Per costruire la manovra Percentuale di passaggi riusciti Fin qui altissima Merito anche dell'ottimo movimento Dei giocatori Sanno farsi Trovare sempre liberi Per ricevere palla Mantengono il possesso del pallone Con una buona serie di passaggi Recupera palla E fa ripartire i suoi Padroni di casa A cui serve un miracolo Per raddrizzare questa sfida Nel finale Il pubblico ci crede I giocatori sembrano stanchi Pier Magari Riusciranno a trovare energie nascoste Grazie ai propri tifosi Ancora poco Alla fine Ultime occasioni Palla recuperata dagli avversari La gara non è ancora chiusa Ma l'impressione è che possano portarla a casa Nei minuti che restano da giocare Il pubblico chiede ancora un ultimo sforzo Ai propri giocatori Trecento secondi alla fine Un gol separa le due squadre Mancano pochi minuti Tutto può cambiare È un finale intensissimo Ci provano ancora Non è finita Tutto facile qui Per il portiere Azione insistita Buona circolazione di palla Pallone riconquistano agli avversari Così può bastare Importante vittoria Fuori casa dunque Beh Una vittoria di carattere Arrivata al termine di un match Combattuto Un successo che dà grande Morale Per affrontare con rinnovato entusiasmo I prossimi impegni Ci voleva Per affrontare con rinnovato entusiasmo Sono Tutto pronto, si parte. Non può sbagliare. Cerca di bucata per il compagno. 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Posizione ideale. Palla interessante in profondità.